Pronto? Allora, buonasera a tutti e benvenuti. A me spiace di non aver seguito le lezioni precedenti del corso perché questo mi ha impedito, mi impedisce di accordarmi al tono dei colleghi che mi hanno preceduto. Spero di non correggere troppo il passo, il taglio rispetto a loro per dare un senso più organico a questo ciclo. Allora, non compare ancora il titolo della mia conversazione, ecco, che mira a presentarvi un'opera tanto celebre, almeno nel sud Italia, ma non solo, quanto poco nota, almeno secondo le mie ricerche. Oggi vi proporrò, spero in maniera semplice, i risultati di studi e indagini che conduco da qualche anno, sorprendendomi per le cose nuove che emergono su questo complesso in terracotta da quasi ogni punto di vista. Dunque, si tratta di un gruppo di otto figure a grandezza naturale, note come il compianto sul Cristo morto, oppure lamentazione, mortorio, si trovano in una delle principalissime chiese di Napoli, la chiesa di Santa Maria di Montioliveto, oggi meglio conosciuta come Sant'Anna dei Lombardi, perché l'antico titolo quattrocentesco fu convertito in quello nuovo all'inizio dell'Ottocento, quando la confraternita dei Lombardi a Napoli perse la sua sede originaria e fu accolta in questa chiesa dei monaci benedettini bianchi, degli olivetani, che nel frattempo, a causa delle soppressioni, aveva perso le sue prerogative originarie. Allora, appunto, otto figure a grandezza naturale e sono naturalmente i congiunti di Cristo intorno al suo cadavere. Presentato in questa maniera visto dai piedi, capiremo più avanti che si tratta di un allestimento che merita di essere corretto, almeno idealmente. Queste figure sono molto amate, sono state visitate nel corso dei secoli da tutti i principali viaggiatori a Napoli. Basti citare, per esempio, Canova, che ne parla nel suo diario, ma ai diari dobbiamo anteporre le guide a stampa che invitavano tutti i visitatori di Napoli a portarsi in questo luogo, perché, appunto, la vivacità, il pathos, l'efficacia della rappresentazione degli affetti di queste otto figure evangeliche non hanno mai messo di stupire il mondo. Guardiamo com'è fatta da tergo questa maddalena con questa chioma tracimante che davvero è in qualche modo una specie di vettore immediato, palpabile della violenza, della violenza del suo dolore, insomma, anche se capiremo fra poco che questa non è una veduta, non era una veduta possibile in origine, è consentita oggi a noi che possiamo girare intorno al gruppo fittile. Questo gruppo fittile è opera di un celeberrimo maestro coroplasta, plasticatore, dell'Emilia, del cuore dell'Emilia, il modenese Guido Mazzoni, detto anche il modanino dalla patria, oppure il paganino era il nome di un suo zio paterno in un'epoca in cui naturalmente i cognomi non erano ancora stabilizzati come oggi. E' una specie di, come dire, unicum del sud Italia. Napoli detiene il primato, come dire, detiene il merito, il vanto dell'opera più bella di un corpus di immagini, di prodotti che sono tipici dell'area padana italiana. Tutti voi conoscete ancora meglio di questo gruppo, per esempio, quello di Niccolò dell'Arca in Santa Maria della Vita a Bologna. Siamo nei primi anni Sessanta del Quattrocento, il nostro invece è a cavallo fra gli anni Ottanta e Novanta e dello stesso secolo e rappresenta un po' il culmine, trent'anni dopo, di questa traiettoria. Allora, prima di metterci a dipanare tutti i problemi stilistici, cronologici, iconografici, architettonici che riguardano questo complesso, cerchiamo di capire quanto il tempo abbia infierito su di esso. Va bene come ritmo di presentazione? Seguite tutti senza problemi, non devo cambiare modo. Bene, allora il gruppo è sostanzialmente ben conservato nella sua massa plastica, nelle sue masse plastiche, nonostante che abbia subito, come vedremo, in numeri traversie attraverso i secoli. Quello che gli manca gravemente è il colore, quindi quando parliamo di colore, lo strato superficiale policromo, dobbiamo immaginare anche la preparazione del colore, quindi del gesso, della colla, sia pure a giudicare da quello che ne rimane in leggerissimi e assai sottili livelli. Questo perché il gruppo, nato policromo e tramandato come policromo attraverso i secoli, naturalmente non piaceva più al gusto neoclassico a cavallo fra 7 e 8 e quindi fu reso monocromo, fu ricoperto di una finta abbronzatura, se non che nel secondo ottocento con il recupero della memoria storica più consapevole, quasi con un revival storicistico, si capì che bisognava correre ai ripari, però evidentemente non si trovò il colore originario, d'altro canto ancora non ci si era riabituati come oggi invece siamo ben paghi di celebrarla alla policromia e quindi il gruppo fu tutto spulito, fu rinettato malamente e quindi ridotto alla pura terracotta. Quei brani di colore che vedete, per esempio il mantello del San Giovanni Evangelista, la terza figura da destra, sono lì quasi per caso, è un miracolo che ancora lì abbiamo. Per il resto le otto figure che vedete dovrebbero essere quelle originarie come numero, anche se poi di questo parleremo molto per delle deviazioni che ci sono state nella bibliografia moderna e se facciamo un confronto tra il gruppo più recente di Guido Mazzoni, quello di Napoli, 1490 circa, è il gruppo suo più antico di 15 anni circa a Busseto, nel cuore dell'Emilia, vediamo che otto figure sono quelle della scelta canonica da parte di questo maestro e dei suoi colleghi. Una tradizione molto forte in Italia in quegli anni è quella delle otto figure. Oltralpe, ma anche nell'Italia influenzata dalle culture d'oltralpe, per esempio si ritrovano più figure al mortorio. Qui siamo nella cattedrale di Friburgo in Svizzera e vedete che ci sono degli angeli con i simboli della passione, ci sono anche dei militi addormentati in attesa di essere, come dire, folgorati dal momento della resurrezione. Questo in Italia, ripeto, nell'area padana per lo più non avviene e quindi di conseguenza anche a Napoli dove l'area padana ha prodotto questo suo meraviglioso frutto. Dunque, che cosa sappiamo di certo, di condiviso, se spogliamo tutta la bibliografia immensa su quest'opera? Sappiamo chi è il suo committente, Alfonso d'Aragona, duca di Calabria, cioè l'erede al trono di Napoli, figlio di Ferrante I. Si tratta di un erede che aspetta molto prima di passare alla corona. Il padre è longevo, ma lui ne è ben contento perché c'è tra lui e il padre una simbiosi totale, un'intesa perfetta sul piano politico e militare. Ferrante I regna dal 1458 al 1494 quando muore e Alfonso prende il suo posto, purtroppo la situazione geopolitica italiana sta precipitando, sono in arrivo i francesi, il regno, come sapete, crolla perché i francesi vengono soprattutto a rivendicare la corona di Napoli in quanto pretendenti, discendenti degli angioini. E allora Alfonso, che è diventato re come Alfonso II, il nonno grande fondatore della dinastia aragonese in Italia, era Alfonso V, il magnanimo d'Aragona, divenuto primo come re di Napoli, Alfonso II scappa nei panni di un olivetano o comunque arrivato in Sicilia dove a proda si fa di fatto olivetano perché Alfonso, diciamolo subito, era un carissimo amico dell'ordine, era un devoto dei monaci bianchi, viveva quasi la loro vita in questo favoloso complesso monastico napoletano che aveva contribuito naturalmente a lanciare. Addirittura, secondo la pia leggenda, serviva la tavola nel refettorio, tanto era parziale, come si diceva una volta, di questa congregazione. Bene, Alfonso, grande mecenate, uomo di larghe vedute, riformatore della città da ogni punto di vista, l'urbanistica, la pulizia, il governo quotidiano, bene Alfonso in questo monastero aveva, come cercherò di spiegare, intenzioni importanti che, tra le altre cose, si inverarono in questo gruppo uffittile, quindi tutti siamo d'accordo sulla sua committenza. Sappiamo anche dei documenti che il gruppo fu fatto tra il 1489 e il 1492 e sappiamo che il gruppo non ha mai lasciato la Chiesa nel corso di tutti questi secoli, nonostante che all'interno della Chiesa abbia molto viaggiato e che la Chiesa abbia subito molte traversie. Detto ciò, poi, se si affrontano tutti gli altri problemi stilistici, iconografici e via dicendo, ne parleremo fra poco, che riguardano questo complesso, si capisce che di fatto si brancola nel buio. Penso che queste difficoltà nella lettura storico-artistica, nella lettura artistica dell'opera, siano come sempre frutto di retaggi storiografici che conviene brevemente ricostruire a ritroso, perché storia dell'arte e storiografia artistica sono la stessa cosa, l'una spiega l'altra e viceversa. E io mi diverto sempre, come dire, quando affronto una nuova opera d'arte, a rifare tutta la storia storiografica e bibliografica, proprio per capire come sono nati certi problemi, certe difficoltà, nelle quali ci dibattiamo tutt'oggi. Allora, cosa succede? Se prendiamo tutto il corpus dei compianti fittili e linei italiani del Rinascimento, ci rendiamo conto, basta dare un'occhiata a questa carta geografica, che Napoli, vedete in basso, costituisce una eccezione, una, come dire, una punta avanzata verso il sud, quasi senza dialogo diretto con l'area padana, anche se in effetti in questa cartina, che è data di circa 30 anni fa, bisognerebbe mettere alcuni gruppi abruzzesi che sono stati rivalutati nel frattempo, ma anche così, come dire, la cartina non si infittisce. Ebbene, questo che cosa ha comportato? Ha comportato che gli studi su Niccolò dell'Arca, Mazzoni e i loro colleghi coroplasti, siano a pannaggio degli studiosi italiani del settentrione, di area padana, oppure di alcuni stranieri, anzi non pochi stranieri, sappiamo che l'Italia tra la fine dell'Ottocento e la fine del Novecento è stata massicciamente studiata da grandi scuole accademiche straniere, le quali però, ogni qualvolta si sono trasferite da noi, hanno scelto, come dire, come area di elezione una anziché altre, diventando, come dire, più bolognesi dei bolognesi, più fiorentini dei fiorentini, come dire, prendendo tutti i tic, diciamo, e tutte le deformazioni visuali e professionali dei colleghi che le accoglievano in Italia. Quindi cosa è successo? Che chi si è occupato bene di Busseto e di Modena, di Venezia e di Ferrara, ha trascurato il caso napoletano perché troppo eccentrico, lasciandolo quindi in balia, diciamo così, sotto la responsabilità degli studiosi meridionali. D'altro canto, gli studiosi meridionali, alle prese con un genere a cui non sono abituati, cosa hanno fatto? Hanno chiesto aiuto passivamente, diciamo così, ai loro colleghi di Su, contribuendo per la loro parte le notizie erudite locali, ma senza riuscire a leggere l'opera nel complesso più vasto di questo corpus dell'Italia settentrionale e della Mitteleuropa, perché questi gruppi sono molto diffusi anche in area francese e tedesca. Quindi, come dire, tutte le volte che i napoletani, investiti del dovere di dare loro la lettura ufficiale di questo gruppo, si sono trovati a mal partito, perché di fatto si sono troppo lenticolarmente concentrati sul loro caso di casa, senza riuscire a tessere dei nessi con il resto. Spero che questo discorso, che vi può apparire un po' fumoso, riusciamo poi a verificarlo davanti alle immagini e a una serie di dettagli che cercherò di mettere in evidenza. Un'altra scissione, un'altra cesura, un'altra faia all'interno degli studi che ha comportato difficoltà di lettura di questo gruppo è non tanto di tipo geografico, ma di tipo cronologico. Siamo nel primo rinascimento, siamo nel 400 e questo genere dei compianti prospera magnificamente. Siccome i modernisti, quelli che si occupano di rinascimento, per lo più hanno una cronologia che dal 400 parte, arrivando fino al 700 e a Napoleone, ma trascura il Medioevo, questo gruppo è stato poco collegato ai suoi antefatti, ai suoi pregressi e anche questo ha complicato molto le cose. Qui vi mostro a sinistra e a destra il prima e il dopo. Prima di Mazzoni, un caso tra tanti, non posso andare nel dettaglio, Caprino Veronese, questo bellissimo gruppo Lapideo, del cosiddetto maestro di Sant'Anastasia, uno dei grandi scultori del gotico veronese. Il gruppo tra l'altro è stato di recente restaurato dall'Opificio delle Pietre Dure. Questo gruppo, dove riconoscete i personaggi canonici della storia, ma ce ne sono altri che sono stati tagliati dal visuale fotografico sulla destra, questo gruppo si legge d'un fiato in continuità con quello che segue attraverso la terracotta padana del 400. Eppure vi assicuro che questi legami quasi mai vengono messi in evidenza, quindi c'è una cesura che taglia fuori il prima, mentre questi gruppi sono letti soprattutto in funzione del dopo e a destra vi mostro Lecce Homo dal Sacro Monte di Varallo che tutti voi conoscete. Quindi, come dire, quest'unico dettaglio ci serve a ricordare qual è stata la lettura iconografica prevalente di questi gruppi nella letteratura moderna. I gruppi sono stati letti come teatro, come naturalmente teatro immobile, cercando legami con le sacre rappresentazioni, anche medievali naturalmente, in questo senso si è andati anche un po' indietro. Ma di fatto, come dire, c'è trovare delle corrispondenze letterali tra un testo e un'immagine è cosa molto difficile, molto rara, come molti vi avranno spiegato prima di me. E allora di fatto questa letteratura sul rapporto tra coroplastica della passione e teatro rimane molto nel generico, annaspa, e non arriva a stringere il dunque, almeno questa è la mia impressione. Ecco qui il gruppo di Caprino con questo dettaglio mirabile del Cristo morto. Io non conosco una rappresentazione così, come dire, spietata davvero delle fattezze del Redentore, quasi una specie di accenno di corset, insomma uno studio anatomico. E allora è mancato il dialogo, per farla breve, tra l'età moderna e il Medioevo, quando il Medioevo invece è terreno di pascolo di bravissimi studiosi che si occupano della fortuna del Santo Sepolcro in Italia. Voi direte cosa c'entra appunto. Negli studi questo non viene messo in evidenza, mentre secondo me per capire questi gruppi dei compianti è bene calarli nella tradizione millenaria della fortuna del Santo Sepolcro. Qui siamo a Pisa e quindi ho scelto due immagini pisane tra le migliaia di immagini italiane ed europee possibili. A sinistra la Chiesa del Santo Sepolcro, che quindi fin dal titolo ci parla di una tradizione topomimetica, avrebbe detto Krautheimer, cioè naturalmente Gerusalemme viene evocata continuamente dai fedeli, dagli artisti del Medioevo, quando sono ben pochi a conoscerla, ad averla conosciuta come testimoni diretti, come crociati, come pellegrini, però naturalmente il senso della pianta centrale è molto forte e quindi si ripete in molte Chiese dedicate al Santo Sepolcro e si ripete anche nei Battisteri, che sono, come dire, luogo della nascita della vita, cioè della rinascita nella morte cristiana. Quindi, come dire, il Battistero di Pisa è un celeberrimo caso di allusione neanche tanto topomimetica, ma molto precisa, quasi accurata. D'altro canto, chi più crociato di un pisano, voglio dire, quindi chi più esperto di terra santa dei pisani, il Battistero di Pisa rimanda alla rotonda dell'Anastasis a Gerusalemme. Andando avanti, così tagliando il discorso molto rapidamente, un caso invece di cappella privata, la Cappella Rucellai in San Pancrazio a Firenze, siamo nel cuore del Quattrocento, Giovanni Rucellai fa fare a Leon Battista Alberti e tramite i suoi buoni uffici poi a Bernardo Rossellino questa famosa cappella dove il tempietto del Santo Sepolcro, cioè la tomba vera e propria di Cristo, questo monumento funerario viene evocato attraverso quel meraviglioso corpo di marmo di Carrara e di pietra verde di Prato. Bene, questa mia necessità, questo mio bisogno di calare i compianti fittili del Primo Rinascimento all'interno di questa tradizione medievale sortisce una prima proposta di rettifica terminologica, perché noi queste opere le troviamo sempre ricordate nei manuali, nei trattati, come compianti, come lamentazioni, come mortori, come pietà, ma io trovo nella documentazione originaria, contratti, testamenti, croniche, cronache dell'epoca, la parola sepolcro, tout court. Quando si parla di sepolcro per antonomasia ci si riferisce, e ci si riferisce, chiedo scusa, a una cappella all'interno di una chiesa dell'epoca, si intende il sepolcro di Cristo. Questo potete capire che, essendo stato perso dalla nostra memoria, crea oggi di molti problemi di esegesi, perché spesso i miei colleghi scambiano il sepolcro di Cristo con il sepolcro del committente che ha voluto quell'opera e c'è quindi da fare molta, come dire, pulizia terminologica. Io ho usato la parola compianto nel titolo di questa chiacchierata per non spaventarvi e non confondervi le idee, perché se avessi detto il sepolcro di Guido Mazzoni, magari poi il sepolcro da corsivo mi diventava tondo, sembrava che volessi parlare della sua tomba, del suo loculo funerario. Però appunto un nostro connazionale, per semplificare diciamo così, del passato, di mezzo millennio fa avrebbe capito al volo. Il sepolcro di, e giù un nome di artista famoso, significa il compianto di Cristo in terracotta o in legno, prevalentemente in terracotta ma anche in legno, sono queste le due materie principali, realizzato da quel maestro. Qui si entra in un discorso sottile che riguarda i tempi della passione e la loro traduzione in termini narrativi e iconici nelle arti figurative. I due gruppi che vedete davanti a voi e che ripropongo identici a quelli di prima per non confondervi le idee con troppe opere, cioè Busseto e Friburgo, si differenziano lievemente perché a destra ci sono Nicodemo e Giuseppe d'Arimatea intenti a seppellire il Cristo. Vedete che lo stanno calando nel sarcofago, mentre a sinistra questo seppellimento, o meglio questa deposizione, è già avvenuta e quindi ancora deve avvenire, qui si può spaccare il capello in quattro, e quindi ci si concede un momento di meditazione dolorosa che segue immediatamente, meglio ancora per molti, precede immediatamente l'atto di destra. Io, alla luce, diciamo così, di quello che leggo nei documenti antichi, proporrei di non andare troppo per il sottile, questo è più un approccio iper specialistico, iper libresco da accademici del ventunesimo secolo, e riconoscerei dei sepolcri tanto nel gruppo di sinistra quanto nel gruppo di destra. Dove voglio andare a parare? Voglio andare a parare al fatto che si tratta della quattordicesima stazione della Via Crucis. Gesù è sepolto, Gesù è posto nella sua tomba. Quindi si tratta per metonimia, praticamente, pars prototo, di una cappella che anch'essa, a volte soggiacendo alla topo Mimesi gerosolimitana, allude a tutto il percorso dei fedeli di spiazione a Gerusalemme. In altre parole, mentre i frati francescani dell'area subalpine, lombarda, devono prodursi con le offerte dei fedeli e con le bolle papali nello sforzo di realizzare questi magnifici sacri monti, ci sono delle chiese, tante chiese in Italia, in cui basta semplicemente avere l'ultima cappella, la quattordicesima stazione della Via Crucis, per ottenere il risultato di fede, di espiazione, di suffragi a cui si mira. Spero che questo sia un discorso chiaro per voi. Alla fine, se ci pensate, è banale l'uovo di Colombo, però vi assicuro che non è il filo conduttore degli studi su questi argomenti. Vedrete, e vi anticipo una delle mie conclusioni, che naturalmente quando in una chiesa si dà un sepolcro del genere con la S maiuscola per antonomasia, prima o poi arriva anche il sepolcro con la S minuscola del committente, il quale naturalmente mira ad avere la propria enumazione la più vicina possibile alla rappresentazione perenne di questo fatto che ha cambiato le sorti dell'umanità. E allora, appunto, è chiaro che una volta assorbita all'interno della Via Crucis o comunque degli allestimenti dei Sacrimonti, anche la lamentazione, anche il sepolcro dà adito a riletture teatrali sempre più importanti, sempre più fastose, come a Varallo, per cui la narrazione del Lecce Homo non si distingue più per vivacità da quella del Mortorio e viceversa. Torniamo a questo punto a Napoli e, alla luce, diciamo così, di questa grossolana preparazione di base, affrontiamo adesso i singoli problemi che riguardano questo gruppo. Allora, dicevamo, il gruppo fu fatto nel 1489, o meglio, dall'89 fino al 92, da un Guido Mazzoni che, secondo la mia ricostruzione, arrivò a Napoli espressamente per questa opera, perché aveva alle spalle una grande fama di facitore di queste opere. Guido Mazzoni era nato con la metà del secolo, 1450 circa, era suddito dei signori di Ferrara e di Modena, cioè degli Est, e quindi cominciò a muoversi sotto il loro potere e nelle proprie terre. Il gruppo di Busseto, che è quello più antico, è di un Mazzoni poco più che 25enne, siamo nel cuore degli anni 70 avanzati, ed è giustamente legato alla committenza dei Marchesi del luogo, i Marchesi Pallavicino, in particolare due fratelli, in qualche modo una sorta di diarchia, Pallavicino-Pallavicini e Giovanni Ludovico, di cui diremo due parole più avanti. E poco dopo, sempre nei tardi anni 70, Mazzoni, a casa sua, realizza questo secondo gruppo famoso per una confraternita, in questo caso una compagnia della Buona Morte, che aveva una sede importante, che nell'Ottocento fu purtroppo distrutta, ma già nel tardo Settecento il gruppo aveva abbandonato la sede originaria, aveva cominciato a migrare, e oggi ce lo ritroviamo nella Chiesa del Battista, quindi tutt'altro contesto, che poi è una chiesa anche barocca, quindi diciamo, questo gruppo lo si vede in chiesa con la stessa freddezza, purtroppo, con lo stesso distacco con cui lo si potrebbe vedere in un museo, cioè nell'ospedale delle opere d'arte antiche. Io sono molto attento, sono un fanatico delle ricostruzioni dei contesti originari, e ogni volta che studio cose di questo genere vorrei sempre ritrovarmele nei loro luoghi in perfetto stato, e quando non è possibile cerco di ovviare naturalmente attraverso l'archeologia, che in qualche modo sto provando a illustrarvi. Quindi il gruppo è opera confraternale, capiremo quindi cosa ciò significa per l'identificazione di alcuni personaggi ritratti al suo interno. Sempre per il laicato cristiano, Mazzoni fece questo importante gruppo, una volta tanto non di morte ma di nascita, la Madonna col bambino, due devoti, e una fantesca, una nutrice, che soffia sulla papa per raffreddarla, e questo è un pezzo, un dettaglio aneddotico celeberrimo di Mazzoni, il gruppo si trova nella cripta del Duomo di Modena, anch'esso ricoverato lì pochi secoli fa, proveniente da una chiesa, la chiesa di Santa Cecilia, che è andata tristemente distrutta. Se noi seguiamo il percorso di Mazzoni, dagli anni 70 agli anni 80, fino ai primi anni 90, seguiamo quasi una specie di climax ascendente di rovine, perché più si va avanti, più i gruppi di Mazzoni hanno subito tragiche traversie. In basso abbiamo il gruppo celeberrimo fatto per i duchi di Ferrara, cioè per Ercole I d'Este e sua moglie. Questo gruppo stava nella chiesa della Madonna della Rosa, che era una sorta di chiesa palatina, vicino al castello Estense, fu tristemente rimosso da lì negli anni 30 del secolo scorso, ma alla fine, come spesso il caso si diverte a fare, fu una fortuna, perché la chiesa andò semidistrutta con i bombardamenti della guerra, della seconda guerra, quindi l'opera, che nel frattempo era stata ricoverata al Gesù, dove ora si trova, alla fine, come dire, si è salvata, anche se è molto rovinata, non solo nella pittura, ma anche nella sua massa plastica. Acme delle sfortune, Venezia, chiesa di Sant'Antonio di Castello, chiesa appartenente ai cosiddetti canonici regolari di Sant'Antonio di Vienne, in Francia, e infatti sono canonici antoniani, Sant'Antonio non è di Padova, ma è Sant'Antonio Abate, però la chiesa negli anni 70 del 400, quindi 15 anni prima che vi arrivasse Mazzoni, nella seconda metà degli anni 80, era stata passata ai canonici regolari lateranensi, che quindi furono i committenti di questo gruppo meraviglioso, che purtroppo durante il periodo napoleonico a Venezia fu distrutto assieme a tutto il complesso architettonico. Questi quattro meravigliosi lacerti si trovano nei musei civici di Padova e furono recuperati soltanto nel tardo ottocento. Come vedete, fra i primi dell'ottocento e il tardo ottocento si determina la rivoluzione in senso positivo nella fortuna di queste opere. Come a Napoli si pentono di aver prima bronzato, di aver bronzato, come dire, il gruppo perdendo la policromia, così i Veneti si pentono di aver distrutto questo complesso e già verso la fine del secolo si danno da fare per recuperare non più però di quattro frammenti. Veniamo a Napoli, ripeto, 1489, Alfonso chiama Guido. Chi è Alfonso nella storia di Guido? Si conoscono, si saranno conosciuti evidentemente in quell'occasione, ma Alfonso è il fratello di Eleonora d'Aragona, duchessa di Ferrara, che quindi sarà stata sicuramente il tramite fra il periodo ferrarese-veneziano del Paganino o del Modanino e la sua discesa a Napoli. I legami tra i fratelli e figli di Ferrante I erano fortissimi tra Alfonso e Eleonora, come tra Alfonso e Beatrice, regina di Ungheria, di cui diremo tra poco qualcosa. Quindi Mazzoni arriva a Napoli, diventa uno dei principalissimi scultori di corte, Mazzoni è anche, come nella universalità dell'epoca, non soltanto un coroplasta, ma un creatore di apparati effimeri, di congegni e ingegni teatrali. I suoi primi contatti con la corte estense di Ferrara rimontano al 1476, quando in occasione della visita di Ercole e di Eleonora a Modena, appunto, preparò la messa in scena di alcune fatiche di Ercole. E allora a corte, a Napoli, a Castel Capuano, diventa una specie di factotum, di magister, di proto-magister, di tutte queste feste tristi e gioiose che si alternano in continuazione. Per esempio, per la presa di Granada, ai danni dei Mori, si produce anche in questo caso come regista, imprenditore, impresario teatrale. E tra le opere che fa, praticamente noi oggi ne abbiamo di stabili, di non effimere, soltanto due. Il compianto è questo busto famosissimo delle Gallerie Nazionali di Capodimonte che rappresenta un monarca ragonese. Su questo non ci sono dubbi, porta anche nel cappello l'insegna dell'Ordine dell'Ermellino, fondato da questi monarchi, però si dibatte moltissimo. Metà e metà sono i due partiti, ma in verità ce n'è uno oggi prevalente, per decidere se si tratta di Ferrante I o di Alfonso II, suo figlio. Vedrete che io cercherò di attirare questo busto nel discorso che farò nei prossimi minuti, proponendo presuntosamente una soluzione definitiva a favore di Ferrante I, il padre di Alfonso. Con l'avvento dei francesi in Italia, e a Napoli in particolare, Guido Mazzoni diventa una preda ambita del monarca di Carlo VIII di Valois, che se lo porta in Francia e gli fa fare varie cose, non tantissime perché poi, come sapete, Carlo VIII muore tutto sommato giovane, ma riesce ad avere da lui questa tomba importantissima che per secoli ha vegliato, diciamo così, su un angolo del presbiterio della Basilica Abbaziale di Saint-Denis, alle porte di Parigi. Questa tomba famosissima, in marmo, pietra di paragone, bronzo, rame, smalti, chi più ne ha più ne metta, naturalmente è stata distrutta con la rivoluzione francese e la dobbiamo ricostruire attraverso i disegni da pre, fatti prima di allora. Riparleremo anche di questa opera. Adesso veniamo a, come dire, i tre buchi neri, secondo la mia interpretazione, secondo il mio approccio, relativi alla comprensione di questo complesso fittile. Non sono separati tra di loro, naturalmente, questi filoni di difficoltà. Io cercherò di trattarli separatamente per amore e di chiarezza, poi però vedremo che andranno a unirsi tutti insieme, confluendo in una, spero, nuova rilettura dell'opera. Allora, quali sono le tre cose principali che non si capiscono oggi di questo complesso? Dove stesse in origine all'interno della Chiesa? Sappiamo che non ha mai lasciato la Chiesa, ma sappiamo che si è mosso al suo interno. Secondo, questo gruppo di figure così veraci, così efficaci, prese dal vero, contiene dei criptoritratti, contiene i ritratti dei committenti o dei loro contemporanei travestiti da personaggi evangelici, personaggi della passione. Terzo, queste figure si vedevano allestite in questa maniera, come le vediamo più o meno oggi. Adolfo Venturi, grandissimo, studioso di tante cose, ma anche di Guido Mazzoni, era contento di questa sistemazione. La trovava ineccepibile. Mentre Jakob Burkatt, nel Cicerone, alcuni decenni prima di lui, l'aveva ritenuta insolente. Ora non ricordo più l'aggettivo, ma usa un aggettivo di gran disprezzo e io, come capirete, sono d'accordo più con Burkatt che con Adolfo Venturi. Però, diciamo, mettiamo questo tema dell'allestimento e della presentazione delle figure per ultimo, perché soltanto mettendolo per ultimo, dopo aver risolto gli altri due casi, capiremo più facilmente dove voglio andare. Allora, questa è la chiesa di Santa Maria di Monti Oliveto, la quale non ha cambiato la sua planimetria esterna di molto negli ultimi 400 anni, mentre l'ha cambiata tantissimo al proprio interno. È stata ricostruita e rimaneggiata più volte, dando però ogni volta l'impressione come dire che la chiesa fosse stata finita di fresco. E questo naturalmente ha contribuito a creare le difficoltà degli esegeti che davanti a tanto ordine, davanti a tanta pulizia, non sono riusciti a fare l'archeologia del prima. Allora, secondo la vulgata, diciamo così, storiografica corrente, questo gruppo che oggi si trova qui, dove c'è questa stella, qui rossa, quindi abbastanza lontano dal Cresbiderio, è stato fatto per questo stesso luogo. Va bene? Questa cappella, che viene chiamata la cappella degli Orìa. Orìa viene usato ambiguamente tanto per questo vano quanto per questo, perché questi due vani non sono separati, sono leggibili come un vano unico. Capirete che questa ambiguità nasce da un errore che io cercherò in qualche modo di smontare. Questa è la chiesa come la vediamo oggi. Chiesa che molti, vi ripeto, ritengono rinascimentale. Addirittura ci sono studi sull'architettura napoletana del Rinascimento che usano questa immagine come punto di riferimento a confronto con altre chiese che non hanno invece mutato la loro facies dalla fine del periodo aragonese o dai tempi di Vasari. Invece noi dobbiamo immaginarci che questa chiesa fondata nel secondo decennio del Quattrocento, cioè in piena età tardogotica, avesse più l'aspetto che ha tuttora il famoso refettorio, poi sagrestia, del complesso monastico della stessa Santa Maria di Montioliveto. A destra il Salone di Vasari, Vasari che fu ospite dei monaci bianchi a Napoli fra il 1544 e il 1545, rivestì di affreschi famosissimi, queste volte gotiche, senza toccarle, come vedete, ma in qualche modo facendo dimenticare la loro conformazione tardogotica. All'epoca in cui Vasari dipingeva, questo era un refettorio, va bene, perché il monastero non si era ancora molto allargato, molto espanso, quando 150 anni circa, dopo Vasari, 140 anni, nel 1685, l'abate Silvestro Chiocca, che è stato uno degli abati più dinamici e volitivi, diciamo così, della sequela dei capi del monastero olivetano di Napoli, appunto, fece questa rivoluzione architettonica, allargò il monastero e trasformò il refettorio in una sagrestia, perché naturalmente il refettorio andava più avanti e all'interno di una planimetria allargata e questo posto, tutto sommato abbastanza vicino alla chiesa, eccolo qua, refettorio del Vasari, diventava una seconda sagrestia. Bene, quindi noi dobbiamo immaginarci questa chiesa più così che così. Questa chiesa era stata fondata da Gurrello o Gurrello Origlia, un nobile napoletano all'epoca, all'apice della sua gloria, del suo potere, perché era logotete e protonotario del regno, quindi un personaggio molto, è una sorta di braccio destro del potentissimo monarca di quegli anni, Ladislao d'Angio Durazzo, penultimo della casa angioina. Con l'avvento dell'ultima esponente della casa, Giovanna II, sorella di Ladislao, Ladislao era morto senza eredi, Gurrello e soprattutto i suoi figli, perché poi Gurrello di lì a poco morì, caddero in disgrazia, per cui questo complesso monastico che era stato avviato con i finanziamenti degli Origlia rischiò di battere la fiacca. Gurrello Origlia da uomo, ripeto, tout puissant dei suoi tempi si era ispirato evidentemente a un modello di committenza monarchica, regia, reale, per cui aveva deciso di fondare lui stesso come se fosse un re, un complesso da regalare a un ordine religiosa, una congregazione benedettina, tutto sommato ancora giovane, che a Napoli cercava un proprio sfogo, una propria piazza, una propria posizione. Questo è importante perché, come dire, parlare di Gurrello, perché di fatto, qui devo abbreviare molto, noi sappiamo che Alfonso II da duca di Calabria negli anni 60, 70, 80 del 400, approfittando di questa vacanza di patronato che si era determinata con la caduta in disgrazia di Ioria, prese il posto di Gurrello e divenne il secondo benefattore, il secondo padre di questo monastero che infatti ha sempre riconosciuto in Gurrello e in Alfonso l'Alfa e l'Omega in qualche modo della propria storia. Bene, la chiesa di Monte Oliveto che oggi ha una navata unica come vedete, con cappelle aperte sui fianchi, era ai tempi di Gurrello e poi soprattutto di Alfonso di Luca di Calabria tutt'altra cosa e qui sono in grado di avvalermi di alcune piante molto buone fatte da una mia bravissima allieva, una giovane studiosa napoletana, Michela Tarallo che si è addottorata con me, alla quale ho affidato il compito di una ricognizione archeologico-topografica sistematica di questo edificio perché leggendo la bibliografia su una pala d'altare o sul gruppo di Mazzoni o su qualche tomba si capiva che regnava una grande confusione dovuta ai continui spostamenti di opere che gli olivetani si erano divertiti a fare nel corso dei secoli in particolare sotto Silvestro Chiocca per cui l'unico modo per venirne a capo era rifare tutto abimis fundamentis cioè studiare tutte le cose insieme e sono venute appunto fuori tra le altre cose queste nuove piante che per esempio ci dicono che la chiesa prima del 1568 aveva un tramezzo e il coro quindi era in mezzo alla navata ma soprattutto la caratteristica veramente bizzarra di questa chiesa era di avere tante fondazioni private gentilizie questo è banale questa è la norma non all'interno della sola navata o all'interno di cappelle semi-autonome lungo il perimetro ma all'interno di questi grandi corridoi non so se riuscite a leggere facilmente la pianta praticamente entrati nella chiesa dalla unica sulla sinistra e sulla destra si avevano delle importanti cappelle tuttora esistenti la cappella dei piccolomini d'Aragona duchi d'Amalfi a sinistra la cappella dei Correale e Conti di Terranova a destra e poi c'erano altre cappelle su cui non mi soffermo naturalmente per raggiungere l'area del presbiterio con le cappelle in corno evangeli e in corno epistole bisognava o chiedere ai monaci olivetani il passo attraverso il coro che era un ambiente invece molto naturalmente ritirato pur essendo al centro della navata oppure bisognava fare in qualche modo una specie di slalom attraverso questi strani corridoi pieni fitti di altari e tombe tombini di ogni genere nel 1568 un po' sull'onda del rinnovamento post-tridentino delle chiese italiane anche i monaci abbatterono il loro tramezzo trasferirono il coro dietro l'altar maggiore e già lì ci fu un terremoto di memorie funerarie pale d'altare che cominciarono a viaggiare da una parte all'altra ma il grosso si ebbe appunto con l'abate chiocca che trasformò questa situazione post-1568 in quella odierna nel frattempo sono successe tante cose dopo la fine del seicento ma di fatto diciamo così non così gravi come pesanti come quelle accadute prima bene allora fare questo tipo di archeologia sulla topografia di una chiesa napoletana comporta per esempio che si possano fare tante scoperte rimettendo a posto tanti e insieme tanti di secta membra per esempio qui dove avete questa chiazza quadrata azzurra c'era la cappella di Antonio D'Alessandro un famosissimo giurista di fine quattrocento diplomatico per conto della corona d'Aragona in giro per l'Italia e a sinistra abbiamo la sua tomba opera di Tommaso Malvito uno scultore della corte alla fine del quattrocento non è un capolavoro della scultura italiana non è un'apice ma è un'opera fortunatissima più per la fama del personaggio quindi è la prosopografia che guida la celebrità di quest'opera nel 5 e nel 600 che per la fama del suo artista quindi noi abbiamo dei disegni delle stampe che ci permettono di capire com'era fatta la tomba la tomba che stava qua oggi si presenta a noi attraverso la sola cassa dove secondo un fare tipico napoletano il titolare l'uomo sta comodamente a dormire sulla parte superiore mentre la moglie è come dire proiettata in umiltà quasi sulla fronte del sarcofago spiaccicata in questa maniera bene questa cassa oggi si trova in questa zona quindi non lontana dalla cappella antica ma comunque assai decontestualizzata sul sedile troviamo la lunetta che stava invece sopra la cassa il sedile è una un tipo di tomba molto caratteristico dell'aristocrazia napoletana è un tipo di tomba collettiva che serve a completare l'arredo liturgico per lo più in marmo delle grandi cappelle noi abbiamo di fronte a noi l'altare in pittura o in marmo sulla sinistra nella posizione privilegiata la tomba individuale del committente sulla destra il sedile funerario che serve per tutti gli altri membri della famiglia come vedete qui c'è stato tutto questo scompaginamento e i pezzi sono volati ai 420 io ho ritrovato qualche anno fa non li ho ancora pubblicati queste due virtù che sono di proprietà della new york university a firenze a villa la pietra nella collezione fondata da yakton un giorno casualmente in un salotto ritrovato queste due virtù di tommaso malvito che reggevano la cassa come se fossero delle come dire trasportatrici durante il funerale del feretro alla maniera di donatello nel sepolcro del cardinale brancacci e naturalmente mettere tutto questo insieme è utile ed è facilitato appunto dalla topografia oggi faremo un esercizio di questo genere per il gruppo di Mazzoni che quindi si trova come vedete in questa in questa posizione bene questa è la soluzione che quasi tutti i miei colleghi accettano mentre a seguito di queste ricognizioni fatte con Michela Tarallo siamo arrivati a capire che il gruppo si trovava invece qui la cappella origlia originaria era questa e in questa cappella Alfonso Duca di Calabria era subentrato a Gurrello facendo realizzare per Guido Mazzoni il compianto perché il gruppo non può essere stato fatto per la cosiddetta cappella origlia attuale innanzitutto perché la cappella è molto lontana dal presbiterio e forse addirittura la chiesa all'epoca non arrivava fino a quel limite di avanzamento ma poi la cappella come vedete è una cappella a cupola ellittica tardo barocca che non potremmo capire senza Borromini senza Guarino Guarini è strano che anche in segni storici dell'architettura di Napoli abbiano potuto pensare a un legame di questo genere ma soprattutto la cappella è separata dal resto della chiesa da questo vano a pianta quadrangolare nel quale si può riconoscere ancora oggi guardando il muro di confine verso il chiostro il tipico schema tripartito di una sala capitolare queste sono le luci di accesso ad una sala capitolare dal chiostro verso l'interno al centro abbiamo il portale a sinistra abbiamo le finestre quindi se noi andiamo a vedere la pianta questa è la chiesa che vi ho perfettamente orientato il sagrato e il capocroce questa è la cappella cosiddetta origlia con il compianto di Mazzoni qui abbiamo nel vestibolo della cappella origlia la sala capitolare con accesso diretto dal chiostro delle colonne o del re Alfonso situazione tipica di queste planimetrie monastiche perché la sala capitolare tradizionalmente si trova al centro del lato del primo chiostro di fronte all'approdo di chi visita il complesso quindi qui abbiamo il sagrato la chiesa il chiostro delle colonne o di Alfonso l'accesso alla sala capitolare è impensabile quindi che tutto ciò fosse fatto da Alfonso oltre la sala capitolare in un vano così periferico come è nato questo equivoco che ha fatto credere questo è il sito originario del compianto non solo ma ha fatto credere che questo fosse un sito battezzato col nome di Ioria fin abantico cosa c'entrano Ioria con una costruzione settecentesca visto che Ioria sono i promotori di Montioliveto ma quasi subito scompaiono dalla scena e qui lavorando sul rapporto fra topografia e tipografia cioè la tipografia delle guide si scopre lavorando sul dettaglio nel quale spesso come sapete si annida il buon Dio questo bizzarro gioco Cesare d'Engegno Caracciolo che è il principale descrittore di Napoli nel primo seicento la Napoli sacra come dice il titolo di questo suo grosso tomo pubblicato due volte nel 23 e nel 24 cita nella cappella della famiglia Origlia la nostra opera continuando si leggono infinite figure tonde di terracotta colorite con grandissima vivacità una dei quali è l'immagine di Nicodemo ovvero ritratto di Gioviano Pontano e via dicendo tutta una cosa che vi risparmio perché ci dobbiamo tornare fra pochi minuti quindi effettivamente sembrava che quello che io ritengo l'errore dei miei colleghi fosse come dire avallato dall'antica guidistica ma come lo stesso d'ingegno caraccio lo dice cappella Origlia se noi mettiamo però a confronto tutte le guide antiche le guide secentesche ci rendiamo conto di questa simpatica situazione questo è Pompeo Sarnelli autore di una guida non solo sacra ma anche profana molto più leggera di quella dell'ingegno e quindi anche molto più fortunata un livre de Poche in qualche modo lo stesso Canova un secolo dopo visitava Napoli con una delle eredizioni del Sarnelli in mano ora io non ho tempo naturalmente di e soprattutto non voglio farvi perdere tempo con tutte queste cappelle familiari ma se voi seguite il percorso di questo guidista di questo scrittore capite che ha seguito un itinerario anti-orario nella cappella della famiglia Ligorio qui la famiglia dei conti di Terranova la cappella d'Alessandro la cappella dei Fiodi e questa qua poi diventata d'Alessandro in quella dei principi di Sulmona cioè i principi di Lannua che erano titolari dell'ex capitolo affrescato nel periodo di Vasario poco oltre con quei famosi affreschi che abbiamo visto prima del cosiddetto roviare spagnolo e poi nella cappella della famiglia Origlia che non è questa immediatamente l'Imitrofa ma facendo una collazione è questa perché il buon Sarnelli prima di descrivere le cappelle ha già descritto il presbiterio quindi si è liberato di questo dettaglio importante da affrontare non è interessato alla cappella dei Gennaro e quindi semplicemente l'ordine che Sarnelli ci dà porta a localizzare l'Origlia tanto bene qua ma questo è uno spazio che ancora non esiste quanto quanto qua questa situazione è stata ulteriormente complicata dal fatto che chiedo scusa possiamo interrompere un attimo perché io sto soffrendo il caldo in una maniera che voi non potete immaginare ecco mi sono permesso appunto nel nome della solidarietà di lanciare questo appello perché vedo che tutti si sventolano qui dobbiamo correre ai ripari mi spiace c'è una registrazione in corso ma io così fra poco scusate allora perdonerete tanta pignoleria topografica ma serve a recuperare come capite un punto strategico un punto nevralgico dell'allestimento originario di questa chiesa e del suo compianto perché siamo in corno evangelii in prossimità del presbiterio e come cercherò di farvi capire alla fine in collegamento diretto non solo visivo ma fisico simbolico liturgico con il presbiterio questa situazione che è andata perduta con il trasferimento dell'opera fra 6 e 700 è ulteriormente complicata dicevo da certi vezzi tipografici da certe come dire furberie della tipografia guidistica napoletana dell'epoca perché guardate cosa succede prima di approdare nella erroneamente detta cappella origlia di oggi portandosi come avrete capito il nome dal sito originario il gruppo era stato nella cappella correale poi nella cappella tolosa a partire dagli anni venti lo troviamo stabilmente documentato qui bene cosa succede che l'abbate Sarnelli nel 1685 sta dando alle stampe frettolosamente l'edizio principis della sua guida proprio mentre i monaci stanno trasferendo il gruppo la prima volta da questa cappella in questa cappella manda il suo disegnatore ad approntare uno schizzo utile a una delle poche stampine che decorano l'opera l'opera ha queste brutte stampine in basso a destra brutte come qualità di fattura però sono molto oculatamente scelte cioè ci danno proprio come dire i monumenti principalissimi di ogni chiesa e questo disegnatore precipitatosi a Montioliveto trova che il complesso non si trova più nel sito originario ma si trova nella cappella correale che è questa l'abbate Sarnelli che evidentemente nella furia non va a fare le verifiche autoptiche battezza comunque questa cappella fin anche questa cappella correale come vedete come cappella a origlia ma noi siamo sicuri dell'identificazione di questa cappella perché c'è questo monumento famoso in marmo di Benedetto da Maiano e di Michelangelo che attraverso lo stile grossolano del disegnatore e dell'incisore è riconoscibile resisi conto dell'errore negli anni successivi come vedete sostituiscono cappella a origlia con sepolcro in Monte Oliveto generico ripiegano su questa dicitura generica perché sanno dai monaci che evidentemente questo gruppo si muoverà altre volte ma mantengono naturalmente per economia di mezzi la stampina come dire allestita di corsa nel 1685 che diventa in qualche modo il biglietto da visita di quest'opera nelle mani dei lettori e dei viaggiatori di tutta Europa quindi questa cosa è servita a complicare ulteriormente il gioco io dico un bisticcio tipografico che è diventato topografico di fatto se noi torniamo nella cappella origlia originaria trasformata moltissimo fra 7 e 800 oggi la si chiama cappella celentano troviamo in fondo un affresco del secondo decennio del 400 proprio quello che ci vuole per gli anni fondativi di Gurrello Ria che era stato obliterato sotto una tamponatura verosimilmente alla fine del 400 quando Alfonso e Guido Mazzoni avevano allestito qui il gruppo il gruppo fittile dopo i restauri della seconda guerra mondiale successivi alla seconda guerra mondiale è venuto fuori non a caso un affresco tardogotico con un devoto con un vovente alla destra della Madonna cioè la nostra sinistra ancora in formato nano secondo la vecchia Prassi che sarà sicuramente Gurrello Ria questo affresco ancora fresco diciamo così nei suoi colori nonostante poi le nomazioni subite a causa della tamponatura dovette essere nascosto perché appunto non serviva più ai nuovi committenti che avevano preso il posto degli Ria cioè gli Aragonesi nella cappella in corno evangeli ora se noi andiamo a fare dei confronti con gli allestimenti originari di questi sepolcri in Aria Padana e Lagunare Veneta anche se non sempre abbiamo i documenti di corredo che ci servono ci rendiamo conto che stavano nelle cappelle in corno evangeli per esempio in Santa Maria degli Angeli a Busseto il gruppo dei Marchesi Pallavicino sta ancora qui nonostante che nell'Ottocento ne sia stato rimosso e poi rimesso ma insomma prendiamo per buona come se fosse originaria sempre in mutata la collocazione attuale dai documenti di Sant'Antonio di Castello e dai testimoni viaggiatori a Venezia nel Rinascimento sappiamo che anche qui il sepolcro di Guido Mazzoni tanto celebrato appunto si trovava alla sinistra del presbiterio per i fedeli cioè alla destra per il clero che avesse dato le spalle al Capocroce e questo è il primo come dire problema per come sono riuscito a dipanarlo nonostante le difficoltà del caldo ecco veniamo adesso al problema dei criptoritratti nel compianto di Napoli nel sepolcro ci sono almeno due cercherò di spiegarvi solo due in verità ma secondo la Comuni Sopinio almeno due teste molto efficacemente conformate all'aspetto di personaggi dell'epoca contemporanei dell'artista e naturalmente persone coinvolte nella committenza e queste due teste sono quella di Giuseppe Darimatea e quella di Nicodemo allora il compianto ha una sequela enorme di citazioni che vanno dal primo Cinquecento fino ai nostri giorni e se uno le mette tutte insieme di corsa la prima impressione è che ognuno di questi testimoni abbia visto una cosa diversa perché non c'è modo ad un bleco sia tutta prima di trovare il bandolo della matassa questo perché come spesso mi capita di dire naturalmente agli allievi che devono affrontare la lettura di queste fonti noi oggi pretendiamo da loro da esse un approccio sistematico come quello dello storico dell'arte che deve scrivere un saggio un capitolo di trattato questi erano cronisti viaggiatori devoti interessati ciascuno ad un aspetto a un dettaglio da privilegiare col rischio di sembrare incoerenti rispetto all'altro testimone arrivato subito dopo lo sforzo che ho fatto io è di collazionare tutto davvero tutto fino al fanatismo e questo come dire ci premia oggi almeno secondo le mie speranze perché ci permette di capire che cosa è successo in origine a questo gruppo le uniche due cose su cui tutti sono d'accordo in questa confusione creata dalle testimonianze antiche e della bibliografia moderna le uniche due cose sono queste a sinistra abbiamo Giuseppe d'Arimatea a destra Nicodemo e già questa è una conquista perché confondere i due invertirne le parti è molto facile non è che poi i Vangeli aiutino così tanto nella distinzione noi sappiamo che Giuseppe d'Arimatea deve essere rappresentato più abbiente dell'altro più vicino al Signore questo sì ma abbiamo pochi altri ingredienti pensate per esempio che nel gruppo famosissimo di Michelangelo all'opera del Duomo di Firenze la pietà ex bandini dove tutti riconoscono l'autoritratto di Michelangelo in quel veiardo che sovrasta il gruppo c'è chi dice che è Nicodemo c'è chi dice che Giuseppe d'Arimatea non è facile uscirne qui a Napoli nella grande confusione abbiamo quest'unico punto fermo così come abbiamo un punto fermo nel convenire che si tratta di due ritratti di contemporanei due criptoritratti questa cosa naturalmente si può fare anche perché si lega il gruppo una volta tanto il gruppo di Napoli alla tradizione padana a Busseto abbiamo anche qui Giuseppe d'Arimatea e Nicodemo in criptoritratti e vi si riconoscono i due fratelli Pallavicino cioè Pallavicini cioè Pallavicino e Gialludovico molto vicini di età come vi conferma la difficile differenza anagrafica che si può stabilire di primo impatto guardando questi volti a Modena la stessa cosa succede con i due personaggi inginocchiati o seduti Nicodemo e Giuseppe d'Arimatea che saranno stati quasi sicuramente i massari della confraternita cioè dei provveditori degli economi va bene i rappresentanti dell'associazione laicale cristiana per quegli anni che però si assunsero la responsabilità della commissione a Ferrara abbiamo questi due personaggi in quello destro dei quali e che è il Giuseppe d'Arimatea si riconosce De Plano da parte di tutti il duca Ercole I mentre a sinistra molto verosimilmente abbiamo il suo chiamiamolo così semplificando primo ministro quindi nessun problema su questo fronte i problemi nascono nel battezzare Nicodemo e Giuseppe d'Arimatea con i nomi dei personaggi dell'epoca secondo la letteratura degli ultimi duecento anni ma anche di più nel primo a sinistra c'è il referrante primo secondo altri però c'è Alfonso Duca di Calabria secondo altri c'è Jacopo Sannazzaro e a destra come vedete referrante di nuovo Alfonso Duca di Calabria di nuovo e Giovanni Gioviano Pontano spero di non dovervi presentare né Pontano né Sannazzaro va bene comunque due parole rapidissime Pontano è il grande umanista della corte di Ferrante sostanzialmente il segretario di Stato Sannazzaro abbastanza più giovane è figura di punta dell'umanesimo di corte negli ultimi anni degli Aragonesi ma è destinato a una fortuna anche dopo anche perché più giovane quindi come dire arriva nel pieno Cinquecento e attraverso i suoi insigni e lavori naturalmente ancora più di Pontano domina l'umanesimo europeo e quindi si tratta di personaggi che a Napoli non hanno mai fatto perdere tracce e memoria di sé da dove nasce questo guazzabuglio di nomi nasce dalla stessa testimonianza di Cesare d'Ingegno Caracciolo Napoli 1623 che stavamo cominciando a leggere prima e che poi ho interrotto visto che ci dovevo ritornare vi prego di perdere un po' di tempo con me nel leggere alla lettera appunto nel seguire alla lettera nella cappella della famiglia Auriglia che quindi è quella dove si approda in corno Evangeli dopo aver visitato o comunque sfiorato con lo sguardo il presbiterio venendo da destra nella cappella della famiglia Auriglia si vengono infinite figure tonde di terracotta colorite con grandissima vivacità una dei quali è l'immagine di Nicodemo vero ritratto di Gioviano Pontano l'altra di Gioseffo da Rimatea ritratto di Giacomo San Nazaro l'altri due li veri ritratti di Alfonso II e Ferrante il figliuolo ossia Ferdinando II penultimo monarca aragonese di Napoli vi ricordo la linea genealogica per aiutarvi a contestualizzare Alfonso I Ferrante I Ferdinando I Alfonso II suo figlio Ferdinando II Ferrante II e poi Federico unico fratello di Alfonso perché Ferdinando II muore senza eredi e quindi la corona passa allo zio paterno il tutto fu fatto da Modanino da Moden eccellentissimo scultore il quale fiorì negli anni di Cristo eccetera eccetera bene allora è a questa testimonianza importante che la gente si appella e giustamente perché Cesare d'Engegno lo sappiamo da tante altre verifiche è fonte di prima scelta e autore fededegno che aveva le sue aveva fatto le sue verifiche insomma prima di scrivere allora cosa cosa viene fuori che negli ultimi due trecento anni con l'Engegno alla mano ci siamo messi a cercare Ferdinando d'Aragona cioè referente primo Alfonso d'Aragona Alfonso II Ferdinando principe di capo poi re Ferdinando II a quel punto sull'onda diciamo così di questi riconoscimenti di queste agnizioni la gente ci ha preso gusto e si è messo a battezzare anche le donne e quindi Lucrezia d'Alagno maîtresse di Alfonso I quindi è anacronismo completo perché non dobbiamo andare così indietro e tutte le altre figure sì interessanti perché sono le sorelle di Alfonso o le figlie o le nipoti o le cognate insomma Eleonora d'Aragona duchessa di Ferrara Beatrice Isabella e così via vediamo di demolire questo gioco tutto napoletano tutto interno alla città di Napoli quando dico città di Napoli mi riferisco tanto agli abitanti quanto ai forestieri che la visitano e che scrivono su di essa anche a distanza una volta tornata a casa vediamo di demolire questo gioco alla luce del confronto con gli esempi padani che chi si occupa di Napoli trascura sistematicamente come vi avevo annunciato all'inizio e allora fermo restando che dobbiamo cercare questi personaggi se mai ci sono all'interno del gruppo di otto perché non si esce mai dagli otto in Italia come vedete Mazzoni ha fatto sempre soltanto otto persone capite bene che chi ha voluto riconoscere ben tre maschi qui ha dovuto inferire che qualcuno si fosse travestito da donna come Pia Maria cosa naturalmente impossibile e allora vediamo che cosa succede questo è Giovanni evangelista a Napoli nel quale spesso si riconosce Ferrandino per una distribuzione anagrafica banale insomma è possibile riconoscere Ferrandino qui? secondo me no se si considera qual è il tipo mazzoniano del Giovanni evangelista va bene? questo è l'esemplare di Busseto questo è l'esemplare di Modena e come vedete siamo già in prossimità di Napoli questo è l'esemplare di Ferrara questo è l'esemplare di Venezia alla luce di questi confronti spero che non sia il caso di insistere sul fatto che nel San Giovanni evangelista di Napoli non si possa riconoscere alcun principe aragonese questa è la maddalena di Napoli a sinistra a confronto con quella di Busseto questa è la maddalena di Modena questa è la maddalena di Ferrara questa è la maddalena di Venezia anche qui mi pare che non ci sia gioco per eppure vi assicuro che l'ultima voce monografica sulla maddalena l'hanno restaurata da sole e quindi hanno fatto un libretto della sorrintendenza si dilunga a dimostrare come qualmente questa sia Isabella d'Aragona duchessa di Milano e prima ancora c'era stato chi aveva proposto Isabella del Balzo principessa d'Altamura regina di Napoli come moglie di Federico d'Aragona questa è Maria questa è Maria di Cleofa a Busseto e a Napoli a Napoli sulla destra e a Modena a Ferrara a Venezia anche qui mi pare che non ci sia margine per un battesimo aragonese di questo personaggio e questa è Salome o Salomè spesso erroneamente detta Maria di Salome o di Salomè non solo da chi si occupa di Mazzoni o di Napoli ma in questa letteratura abbiamo Napoli a sinistra a confronto con Busseto a confronto con Modena l'ho messa per ultima perché qui Mazzoni si diverte un po' di più a variare il tipo però sempre rimanendo all'interno di una meravigliosa genericità qui abbiamo Ferrara e questa è un'eccezione di cui diremo fra poco anzi subito perché tutti riconoscono De Plano in questa come dire non molto gradevole Salome o Salomè la duchessa Eleonora l'infanta di Napoli va bene grazie a questi confronti per esempio con la medaglistica o con la miniatura il famoso cornazzano della Pertman Morgan Library e questo si spiega benissimo perché abbiamo praticamente visto mettendo di fronte all'unica eccezione a me nota al femminile del percorso di Mazzoni perché Eleonora è la vera committente del gruppo di Ferrara è colei che media il passaggio di Mazzoni a Napoli noi sappiamo che Eleonora paga il compianto di Ferrara regalando delle regalando come dire cedendo delle stoffe pregiate a Pellegrina la moglie di Mazzoni che come sappiamo dalle fonti non era soltanto sua moglie ma era sua collega e principale collaboratrice assieme alla figlia erano tre coroplasti padre madre e figlia tutte e tre infatti espiantati dall'Italia e portati da Carlo di Valois in Francia e poi ritornati a morire a Modena alla metà degli anni dieci del Cinquecento quando Francesco I subentrato a Luigi XII e a Carlo VIII evidentemente diede il ben servito al vecchio Mazzoni di cui non aveva più bisogno allora diciamo così anche se queste verifiche sistematiche le facciamo qui per la prima volta qualcuno come dire ha intuito che il discorso non poteva funzionare e quindi ha cercato di azzerare il discorso scavalcando a ritroso l'ingegno e andando a pescare le prime testimonianze manoscritte quella di suo o a cioè questa qui la stessa scusatemi poi pubblicata nell'Ottocento o a stampa vasari relative al compianto vediamo che cosa dice Pietro Summonte Pietro Summonte è una specie di Livio secondo Dante come dire degli studi sull'arte napoletana è uno scrittore che non erra nel 1524 manda una bellissima lettera volgare impastata di latino come solo un umanista napoletano della scuola di Pontano può fare a Marco Antonio Michiel a Venezia il quale sta scrivendo sugli artisti italiani vuole avere informazioni su Napoli e questa lettera stupenda del marzo del 1524 ancora oggi la leggiamo ci appare come se fosse orocolato perché non c'è cosa che lui non dica di erroneo di sbagliato in opera di plastice come vedete questo volgare si imperla di parole dall'etimologia dotissima che rimonta al latino e al greco in opera di plastice in Monti Oliveto la schiovazione di nostro signor dalla croce con le figure delle signori re Ferrando I e re Alfonso II di felice memoria espresse ben dal naturale di mano del paganino di Modena condotto Olim con ampla provvisione per lo signor re Alfonso II quindi come dire Alfonso II e suo padre Ferrante vanno cercati in qualche modo all'interno della cappella ex origlia divenuta poi degli aragonesi perché sul monte come dire non è da minimizzare facilmente d'altro canto anche Vasari che non aveva letto sul monte perché sul monte non era mai uscito a stampa sapeva cose affini Modanino da Modena dal re Alfonso II era tenuto in grandissima venerazione avendo egli lavorato una pietà con infinite figure tonde di terracotta colorite le quali con grandissima vivacità si vengono condotte da lui e dal detto re fatte porre nella chiesa di Montioliveto di Napoli monasteri in quel luogo onoratissimo tra queste statue volse ritare il re Alfonso che in ginocchioni adora tal misterio il quale si dimostra più che vivo onde Modanino eccetera 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 allora conclusione corrente degli studi via Ferrandino via le donne ma dobbiamo assolutamente dichiararci paghi di Ferrante e di Alfonso cioè o l'uno a sinistra e l'altro a destra o viceversa e qui io cerco di come dire ripartire da zero con occhio ingenuo quasi con l'occhio di un bambino e dico ma com'è possibile che questi due pressoché coetanei fossero padre e figlio visto che si parte dal presupposto che Guido Mazzoni era un ritrattista ineguagliabile impareggiabile nella sua resa del vero questo problema coinvolge naturalmente anche il busto bronzio vi ricordate lo accennavo prima perché tutti convengono che il personaggio qui a sinistra è il personaggio qui a destra è lo stesso uomo vestito come dire in abito di corte a sinistra o meglio in abito da passeggio direi con la sua giusta chioma e a destra privato di questa chioma per come dire rendere meglio il senso del personaggio evangelico e allora gli studi come vedete si muovono continuamente sbandando da una soluzione a quella opposta con una prevalenza però ripeto a favore di Alfonso qui e qui se voi andate a Capodimonte immagino che il cartellino ultimo reciti Alfonso d'Aragona d'altro canto anche l'ingegno è una fonte da non trascurare e l'ingegno non si limita a parlare dei due monarchi tra l'altro come vedete uno non è più Ferdinando I ma il suo nipote è Ferdinando II e ci mette Pontano e San Nazaro il problema vi dicevo è già complicato da questo ritratto ma è ulteriormente complicato dal fatto che come si è scoperto negli ultimi 20-30 anni questo ritratto proviene anch'esso dalla chiesa olivetana di Santa Maria poi Sant'Anna dei Lombardi abbiamo qui scusate se vi butto su questa erudizione un po' noiosa ma è l'unico modo per far parlare di nuovo le opere va bene altrimenti si sta in un vicolo cieco bene questo Scipione Mazzella è un poligrafo napoletano di fine 500 che nel 1594 pubblica le vite dei re con le loro effigi messe a mo' di frontespizio prima di ognuna e a proposito di Ferdinando primo referante ci dà questo ovato e scrive vedesi l'effigie di Re Ferdinando scolpita di marmo in molti luoghi di Napoli ma più che altrove elegantissimamente fatta di rilevo dal petto in su di bronzo nella chiesa di Montioliveto di detta città nella cappella della passione di nostro signore Gesù Cristo oibo quindi il gioco dei ritratti si complica non vi possono essere dubbi che l'opera sia questa nonostante che il cappello con l'insegna dell'ermellino sia diventato una corona naturalmente per adeguare il ritratto alla sfilza delle teste coronate che accompagnano e punteggiano questo volume Giovanni Antonio Summonte grande storico di Napoli stesso cognome di Pietro a volte ci fa confusione ma sono vissuti a distanza di tre quarti di secolo l'uno dall'altro Giovanni Antonio Summonte ripete sostanzialmente le stesse cose del Mazzella e ci dà una stampa chiaramente ispirata a questa ma ulteriormente complicata e resa quasi irriconoscibile dal fatto che naturalmente deve adeguare la mezza figura alle mezze figure di tutti gli altri monarchi dai tempi più remoti fino al viceregno spagnolo e quindi lo sistema in questa maniera con la clamide lo scettro e via dicendo non lo cito Summonte per non mettere troppa carne al fuoco mentre faccio un passo indietro a recuperare questi due frammenti di due autori che non sono mai entrati nel gioco della fortuna moderna sul compianto di Montioliveto Leandro Alberti il famoso frate dominicano Periegetta che pubblica nel 1550 a Bologna sua città una descrizione di tutta Italia ma che aveva visitato Napoli negli anni 20 quindi all'epoca di Pietro Summonte scrive nel sagrato tempio di frati di Montioliveto vedensi le vere effigie di Ferrando I re e del secondo Alfonso sopradetti tanto meravigliosamente composte che paiono vive e questa questa specie di piega del discorso diventa quasi un topos perché Luigi Contarino nella nobiltà di Napoli in dialogo pubblicata 19 anni dopo scrive erami scordato di Irvi è un dialogo per l'appunto come dice il titolo che nella chiesa di Montioliveto in una cappella si vede la vera effigie di Ferrando I e di Alfonso II l'uno per mezzo l'altro ingenocchiato ad uno scabello con tal mirabil modo che paiono veramente vivi allora perdonate questa specie di accumulo da formica va bene ma ogni fonte mi spilla una parola in più che io come dire parto dal presupposto che sia buona e naturalmente pronto a cambiare idea se poi le cose non tornano ma nel momento in cui vedo che il mosaico anzi il puzzle va tutto a posto perché ogni parola in più contribuisce a chiarirmi le idee naturalmente sono incoraggiato ad andare avanti a non fare un passo indietro allora alla luce di questo come dire ritornello delle fonti a stampa presecentesche sulla vera effigie rileggiamo rapidamente attraverso l'evidenziazione non sto a declamare il tutto altrimenti perdiamo troppo tempo quello che scrive Dengenio parlando di vero ritratto di veri ritratti e curiosamente non so se è un caso omettendo vero soltanto per Giacomo Sannazzaro cercherò di dimostrarvi tra poco che effettivamente tutte queste cose funzionano tranne l'intruzione di Giacomo Sannazzaro che però si spiega bene allora Ferrante si può riscontrare fortunatamente con altri ritratti accertati di lui come questo in marmo di Capodimonte proveniente dal cosiddetto Palazzo de Scorziatis che per fortuna ha un'epigrafe originaria con tanto di nome eppure questa epigrafe è stata ritenuta spuria da coloro che si ostinavano a riconoscere qui Alfonso va bene e poi abbiamo la monetazione aragonese questa scusate se insisto su questo aspetto ma spero che Mazzoni ci aiuti a contribuire definitivamente a chiarire l'iconografia degli Aragonesi che a causa di questo bisticcio livetano si è molto sporcata si è molto confusa e opacizzata nell'ultimo secolo noi di fatto ancora oggi non sappiamo non sappiamo bene quali siano le fattezze di Ferrante e di suo figlio riprendiamo Mazzella il quale non solo ci aveva citato il busto in bronzo oggi a Capodimonte confermato qualche anno prima da Contarino ma ci dà anche delle informazioni su Alfonso vedesi l'effigie d'Alfonso al naturale tutta intiera scolpita e colorita al vivo fatta da eccellente maestro nella chiesa di Montioliveto di Napoli nella cappella della passione di nostro Signore Gesù Cristo dove con atto di riverenzia sta inginocchiato tenendo con la destra il scettro reale va bene e aggiunge Contarino o meglio anticipandolo l'uno per mezzo l'altro inginocchiato ad uno scabello vi ricordate allora come vedete sta prendendo forma un ritratto di Alfonso all'interno non del compianto ma all'interno della cappella che era ben diverso dal Giuseppe d'Arimateo dal Nicodemo che abbiamo di fronte agli occhi era un personaggio in abito di corte con un pregadio su cui era inginocchiato con uno scettro va bene e davvero alla fine di tutto questo percorso un dettaglio che stava sotto gli occhi di tutti ma che nessuno aveva voluto afferrare Giovanni Antonio Summonte scrive alla fine della vita di Ferrante I annunciando quella successiva di suo figlio Alfonso il discorso cioè la trattazione il capitolo relativo a segue di Alfonso II la cui naturale effigia è scolpita e ritratta dalla cappella della passione dove riverentemente inginocchiato sostiene con la destra il scettro reale con meravigliosa pittura ora ironia di certi studi linguistici applicati diciamo così alla storia dell'arte che vengono fatti da studiosi a volte non italiani che magari con la nostra lingua devono un po' cavarsela alla menoteggio questa citazione era stata afferrata soltanto da una studiosa francese che ha inteso discorso non nel senso di trattazione ma nel senso di orazione allocuzione e quindi pensava che qui si annunciasse un discorso tra virgolette di Alfonso che poi non ha seguito nel testo di Sulmonte ultima testimonianza scritta e poi non vi ammorbo più ritorniamo alle opere è questa qui sulla quale gli studi aragonesi si sono interrogati negli ultimi 200 anni perché nelle guide del 6 e del 700 trovano questi versi in latino che io ho provato a tradurre in italiano per maggiore comodità vostra i quali scusatemi ve li devo leggere ci danno delle informazioni preziose è una epigrafe che parla al viandante al fedele e naturalmente allude al compianto di Mazzoni quelli che ammiri come simulacri di una devozione semimorte prossima a spirare sono ospite le immagini vive respiranti della devozione aragonese vivono ma esanimi a causa del dolore la morte da esse ingannate è passata oltre non chiederai perché non se ne sono andate l'autorità del re Alfonso che già se ne vola al cielo è qui capace di rendere immobile la devozione per non essere rapito del tutto egli ha raccomandato se stesso plasmato in argilla come testimonianza di una fede ad Amantina ai suoi olivetani ai quali più volte aveva fatto doni d'oro cioè si riferisce naturalmente a questo patronato munifico di Alfonso nei confronti del monastero bene queste epigrafe ha come si dice oggi con brutto verbo intrigato molto gli studiosi contemporanei che però come dire l'hanno trovata enigmatica gli è parsa un rebus è parsa loro un rebus per cui si sono anche chiesti ma sarà stata trascritta bene sarà mai esistita in questo come dire accapigliarsi sull'esegesi di questi versi non si sono resi conto che l'epigrafe è qua sotto gli occhi di tutti basta soltanto andare nelle chiese bisogna visitarle le chiese non bisogna soltanto parlarne a distanza librescamente eccola qua è un epigrafe che ha un ductus che io ho dato per una serie di ragioni al secondo decennio del Cinquecento ma soprattutto ha un contenuto che è postumo perché naturalmente Alfonso ormai è morto viene commemorato come committente del gruppo ma non come committente ancora ancora vivente va bene e sostanzialmente una cosa del genere ha tutta l'aria di riferirsi a quella figura inginocchiata in abito di corte che viene ricordata da Contarini da Mazzella da Summonte per chiudere vi avevo promesso ma ingannevolmente che sarebbe stata l'ultima testimonianza letteraria in verità e la penultima dobbiamo tirar fuori la visita che Carlo VIII fece nella Napoli ex-aragonesi da lui conquistata secondo le relazioni famose degli ambasciatori veneziani al suo seguito inviate al Senato della Serenissima ed epitomate da quel formidabile storico che è stato Marin Sanudo il quale lavorando su tutti questi registri di cancelleria come voi sapete ha dato una descrizione storica di Venezia dell'Italia e dell'Europa del tempo ineguagliata in tanta preziosità di materiali bene questo è Carlo VIII che visita uno dei quattro castelli principali della capitale aragonese Castelnuovo Castel Capuano Castel Santelmo Castel dell'Ovo Castelli due soltanto dei quali erano all'interno diciamo così della città abitata in senso stretto per cui erano le principali residenze della corona Castelnuovo la residenza del monarca Castel Capuano la residenza del duca di Calabria va bene a Castelnuovo quindi Alfonso II visse da erede al trono ma poi anche da monarca per pochi mesi perché era un posto a lui molto caro lo aveva ricostruito pur essendo un castello ex-angioino ex-svevo ex-normanno l'aveva ricostruito ampiamente ne aveva fatto un luogo di delizia e aveva costruito come dependance la famosissima duchesca oggi naturalmente per chi va a Napoli evocare tutto ciò crea soltanto cordoglio estremo perché nell'area degradatissima della stazione ferroviaria meglio di piazza Garibaldi verso la città nel quartiere intricatissimo che porta fino ai tribunali lì c'erano i favolosi giardini della duchesca duchesca naturalmente dal nome del duca sostanzialmente dovete immaginare un collegamento verde tra Castel Capuano e la dependance della duchesca un poco come contemporaneamente anzi pochi anni dopo vi ho messo qui questa stampina in Vaticano c'era il collegamento che c'è tuttora tra i palazzi apostolici e la villa del Belvedere praticamente Alfonso inaugura una tradizione che prosegue poi nella storia delle regge europee attraverso casi come la legge di Versailles e il Trianon va bene cioè dei luoghi di delizie non lontani dal plesso principale per sfuggire alle cure della corte quella corte che naturalmente vive di una vita molto vivace per volontà dello stesso titolare dello stesso padrone di casa il quale però ogni tanto ha bisogno di ristorarsi andandosene altrove bene che cosa vedono tra gli immensi tesori della regge aragonese conquistata gli ambasciatori veneziani al seguito di Carlo VIII vedono e dobbiamo leggerlo perdonate se in ce spicherò nel questo volgare veneziano che non è non mi è familiare nella pronuncia uno studio tutto intorno e di sopra lavorato di tarsia sopra la tavola uno bellissimo tapedo da maschin sopra il quale erano quattro libri coperti di seta ogni tanto aggiusto le parole a favore mio della mia pronuncia con gli zoli e cantoni d'arzento cioè la bibbia titolivi e petrarca uno caramal grande tutto d'arzento do candelire di diaspro e l'immagine del re don fernando vecchio ferrando vecchio di bronzo nella quale tutti tendiamo ormai ad identificare il busto di capodimonte di qui si va in un oratorio ver capelletta ornata attorno di velluto negro con una pala pinta per eccellenza con quattro candelieri di diaspro poi si trova tre stalle se entra in una camera ornata di razzi e tapezzerie poi in un'altra con figure depente letto coperto di panno d'oro demum un'altra similiter fornita uno studio ornato con libri coperti e la figura di pontano gran segretario del re o modottissimo zitata di bronzo quindi dobbiamo immaginare una cosa simile a quella precedente poi si monta in alto e si trova la speziaria del duca con gran copia e ussiti di questo palazzo ecco si fa il giardino e si arriva alla villa della duchesca se entra in la stalla dove erano duecento corsieri poi la caneva con gran copia di botte grande e in un altro zardine eccetera eccetera andiamo veloci montati su scale si trova a Pozzuoli da Salalfresco mirabili poi si discende in altre camere ornato supra e un oratorio quindi la cappella privata segreta del duca nella villa della duchesca dove era il duca de Calabria suo e don Alfonso fatto naturalmente che stava in zenocchioni che pareva vivo ed altre camere sale orbene secondo me questa opera mirabile a tutto tondo a grandezza naturale ritratto efficacissimo che stava praticamente in adorazione perpetua dell'altare nell'oratorio quindi vedete si creava un'atmosfera davvero inedita e irripetibile quest'opera che recentemente è stata collegata molto opportunamente da Bianca De Divizis una mia collega di Napoli cara collega di Napoli al famoso caso del cardinale Oliviero Carafa in marmo 1510-12 circa nel succorpo che io propongo di attribuire a Matteo Lombardo ma questa è un'altra storia all'interno del succorpo di Napoli cioè la cripta del Duomo dove lui è in perpetua adorazione delle spoglie di San Gennaro in questo ambiente che magicamente diventa la tomba di San Gennaro e del cardinale stesso con un'operazione di committenza di una furbizia pari all'intelligenza bene questa figura di Oliviero dipende dal modello di terracotta che stava nella cappella della duchesca opera che io propongo di annettere una giunta al catalogo di Mazzoni perché appunto vedo lo stesso Mazzoni che qualche anno dopo fa per l'abbazia reale di Saint-Denis questa foggia di sepolcro per Carlo VIII il quale chiaramente doveva essersi invaguito del modello visto alla duchesca e per questa ragione si era portato dietro Mazzoni in Francia ma interrompiamo un attimo apriamo una parentesi e cerchiamo di capire il gioco che si svolgeva a Castel Capuano i ambasciatori videro questo busto questo busto perché per fortuna abbiamo anche il Pontano oggi nei musei civici di Genova abbiamo la scritta in basso che non ci inganna e ci dice addirittura che è ritratto in quanto maestro aio istitutore segretario di Alfonso e poi abbiamo quella figura che su un monte vede in Montioliveto un secolo dopo e che fa ritrarre in questa foggia e che corrisponde sostanzialmente a quella vista dagli ambasciatori veneziani in Castel Capuano un secolo prima ecco il Pontano ritratto in bronzo da Adriano Fiorentino un collaboratore di Bertoldo di Giovanni quindi allievo di Donatello attivo a Napoli anche lui per Alfonso con una tale peculiarità di tratti addirittura abbiamo queste vene che esplodono sulla tempia sinistra da permetterci di riconoscere con una certa facilità il Pontano nel Nicodemo del gruppo del gruppo di Montioliveto naturalmente qui dovete fare la distinzione tra un ritrattista portentoso ed efficacissimo come Mazzoni il quale si avvale tra l'altro della terracotta e un bronzista come dire più freddo più accademico potremmo dire semplificando così classicheggiante da perdersi nello stereotipo anche se poi alla fine ci sono dei tratti inconfondibili come queste zampe di gallina ai lati degli occhi la combinazione di tutti questi dettagli ci permette di essere abbastanza sicuri e allora alla luce di tutta questa revisione di fonti collaterali la testimonianza apparentemente incomprensibile e fallace di Dengenio che ha costretto i miei predecessori a cercare le facce degli aragonesi e dei loro segretari all'interno del gruppo degli otto va bene di quell'ottetto diventa più più comprensibile che cosa era successo secondo me mettendo tutti insieme Guido Mazzoni aveva rappresentato il compianto includendovi per volontà del committente Alfonso che non si era fatto ritrarre suo padre Ferdinando nei panni di Giuseppe d'Arimatea cioè la figura principale delle due e il suo aio poi segretario nei panni di Pontano cioè la seconda figura importante la distanza anagrafica di pochi anni fra i due si come dire intende perfettamente all'interno di questa distinzione dopodiché morto Alfonso caduta la dinastia aragonese era successo qualcosa per cui gli olivetani devotissimi della causa e della memoria degli aragonesi per tutta la durata della loro esistenza fino alle soppressioni napoleoniche avevano importato dalla regia di Castel Capuano il busto di Ferrante la figura intera a grandezza naturale inginocchiata di Alfonso che quindi come opera di Mazzoni assieme al bronzo ci conferma che su Monte non sbagliava quando diceva che tutte queste opere erano di Mazzoni va bene e la stessa cosa sostanzialmente vale per il Dengenio ma a destra era stata aggiunta una figura in controparte di Ferrandino per ovviamente intendo una figura inginocchiata a grandezza naturale in abito di corte come suo padre per completare questa fotografia di corte alla luce di questa intrusione di un Ferdinando che si alluggeva ad un altro Ferdinando era diventato del tutto naturale conservare un solo Ferdinando e andare a cercare una quinta identità nuova per questo uomo e la si era trovata facilmente in San Nazaro perché era San Nazaro voglio dire il corrispettivo più giovane di Pontano e poi perché attenzione mentre i monarchi erano presentati in abito di corte e quindi erano perfettamente distinguibili dal resto i criptoritratti rappresentavano due figure inginocchiate a terra quindi in posizione più umile va bene lievemente declassata e questo permetteva di riconoscere i loro segretari personaggi di corte per quanto di alto rango quindi se si va a rivedere con questa come dire agnizione nella mente la terminologia di tutte queste fonti si scopre che quando questi autori parlano di vera effigie intendono dire che non è un criptoritratto va bene è un modo naturalmente a cui noi non siamo abituati oggi perché vorremmo la parola precisa la pignola la parola come dire specialistica gergale tecnica è un modo per dire che ci sono criptoritratti e veri e veri ritratti l'idea di mettere accanto a un gruppo di compianto dei committenti dei in forma diciamo di devoti di voventi è comunissima nella età nell'Europa non italiana qui vi ho messo alla rinfusa dei casi francesi dove tra pittura e pietra e terracotta potete vedere soprattutto pittura e pietra potete vedere per esempio come a Digione nell'Hotel de Dieu abbiamo il gruppo e questi due voventi oppure a Troyes a Saint-Fal questa situazione qui a Chahurts sempre nella regione di Troyes abbiamo i due voventi che oggi sono finiti qui nell'Alta Garonna non li vedete bene ma sono qui rannicchiati va bene oltre l'arco come era stato possibile questo passaggio dei ritratti aragonesi da Castel Capuano a Monte Oliveto durante i primi anni del viceregno spagnolo e qui scusate devo aprire l'ennesima parentesi sulla storia di Napoli altrimenti non ci non ci intendiamo Castel Capuano era come dire all'apice della potenza aragonese un luogo non meno importante di Castelnuovo il cosiddetto volgarmente maschio angioino ma non appena gli spagnoli se ne impossessarono divenne chiaro che prima o poi sarebbe stato dismesso in quanto reggia d'altro canto lo stesso Castelnuovo fu trasformato in una fortezza militare in qualche modo e il viceregsi costruì un palazzo nuovo che divenne poi l'attuale palazzo reale il palazzo di Castel Capuano in proseguo di tempo diventò la sede dei tribunali del regno funzione che ha mantenuto fino a pochi decenni fa chi abitava in questo palazzo negli anni di Ferdinando il Cattolico primo monarca spagnolo di Napoli ma queste cinque donne in rosso che formavano quella che Benedetto Croce in un meraviglioso saggio ha definito la corte delle tristi reine va bene cosa era successo che morti tragicamente Alfonso II Ferdinando II Federico in questo palazzo erano prigioniere dei loro cugini aragonesi di Spagna praticamente addirittura dei loro fratelli perché Ferdinando il Cattolico era fratello di Giovanna questa qui di questa Giovanna III va bene pensate un po' voi il grande tradimento naturalmente che gli aragonesi del ramo principale hanno perpetrato i danni dei loro cugini rimasti a Napoli con cui la sorella di Ferdinando il II Ferdinando il Cattolico scusatemi nel frattempo si era imparentata allora Giovanna terza Giovanna IV Beatrice regina d'Ungheria che era ritornata a Napoli da vedova Isabella duchessa di Bari vedova di Giangaleazzo sforza duca di Milano inconsolabile una delle donne come dire più sfortunate dell'Europa principesca di quegli anni e soprattutto più consapevole della sua sfortuna con la piccolissima buona sforza che sarebbe poi diventata regina di Polonia facendo una vita tragicamente avventurosa ma all'epoca aveva 10-15 anni va bene ecco queste cinque donne vivevano nel culto come vedete Giovanna di suo cugino che era anche suo marito del suo figliastro del nipote di suo cugino e marito che era diventato suo genero non so se riuscite a capire il groviglio meraviglioso di rapporti che si determina lei piangeva suo padre il suo fratellastro e il figlio del suo fratellastro che era suo marito Isabella piangeva il fratello il padre il nonno e così via bene tutte costoro sapevano che una volta morte l'ultima di loro la reggia sarebbe passata ad altra mano tutto quell'arredo meraviglioso quel poco che ne era rimasto sicuramente c'erano ancora i ritatti che nessuno voleva tutto ciò sarebbe finito e grazie ai loro rapporti strettissimi con gli aragonesi cedettero queste figure poco prima che Giovanna morisse siamo ormai alla metà degli anni dieci del cinquecento agli olivetani di cui come dire frequentavano assiduamente le messe il refettorio in questa specie di ritirata va bene rispetto al potere spagnolo che si era creato tra l'ex cuore politico e secolare della città la corte degli aragonesi e l'ex cuore ecclesiastico della Napoli-Aragonese cioè il monastero di Santa Maria di Montioliveto nel 1517 Marco Cardisco un pittore della nuova corte spagnola fa per la cappella palatina di Castelnuovo questa pala con l'adorazione dei magi in cui ci sono tre criptoritratti si riconosce nel mago più giovane Carlo V il nuovo trionfatore con sanguineo l'oro ma come dire nello stesso tempo appartenente ad un'altra linea di potere e come vedete nell'Alfonso II cita la statua di quella che io ritengo la statua inginocchiata di Mazzoni che nel frattempo non a caso era stata traslata a Montioliveto formando una specie di sacrario aragonese veniamo adesso all'allestimento vado veloce perché il tempo scorre il tiranno oggi noi siamo abituati a questa situazione che ci piace molto perché la vediamo in qualche modo suffragata conestata dalla stampina del Sarnelli e perché poi evoca del tutto casualmente secondo il mio modo di vedere il Cristo prospettico celeberrimo di Mantegna si tratta però di un anacronismo che io propongo di smontare con la stessa sensibilità che faceva dire a Burkhardt che questo era un allestimento stupido curiosamente asserviti diciamo così alla memoria di Adolfo Venturi quasi nessuno diciamo così degli studiosi che mi hanno preceduto ha tentato una diversa ricomposizione del gruppo tranne Timothy Verdon che autore di una tesi di dottorato degli anni 70 su Guido Mazzoni il quale ha fatto questo esperimento questa è una xerocopia ormai molto scialba con la quale alla fine io mi trovo abbastanza d'accordo anche se non capisco perché la Madonna debba essere sistemata per maggiore visibilità in cima a quella specie di podio trapezoidale che ricorda quasi il Vesuvio visto che ci troviamo a Napoli e allora cerchiamo di capire come va il gioco di Mazzoni nei gruppi che si sono meglio conservati a Busseto ecco la situazione abbiamo Giuseppe da Rimatea cioè il più importante dei fratelli Pallavicino al capo del Redentore perché è la parte più nobile ai piedi Nicodemo la Maddalena naturalmente arriva sempre in prossimità dei piedi di Cristo per l'ovvio pregresso narrativo del Vangelo che non sto a ricordarvi per mancanza di tempo e la Madonna si approssima il più possibile al volto o comunque al torso del Cristo accompagnata dalle Marie con Giovanni Evangelista che le fa sempre da scorta in qualche modo questa situazione si ripete a Modena dove è facile alla luce del confronto con Busseto proporre semplicemente un arrocco tra la Maria di Cleofa e il Nicodemo per mettere le cose in ordine a Modena basterebbe semplicemente invertire la penultima e l'ultima figura sulla nostra destra a Ferrara attenzione cosa succede il Cristo non è più con la testa alla nostra sinistra ma è a destra è capriccio dello scultore certamente no qui bisogna ma il discorso si fa troppo lungo arriveremo a mezzanotte quindi questa parte ve la risparmio bisogna bisogna entrare nella topografia sacra e liturgica dell'edificio e capire qual era il rapporto spaziale tra la cappella di installazione del gruppo e l'altar maggiore o comunque l'altare privato principale più vicino evidentemente in Santa Maria della Rosa di cui non abbiamo la situazione antica le cose costringevano a questa inversione motivo per cui Giuseppe da Rimatea passa dalla nostra sinistra alla nostra destra e viceversa per il Nicodemo e naturalmente la Maria di Salome che in fondo anche qui sta accanto a Giuseppe da Rimatea finisce per trovarsi accanto ed è Eleonora naturalmente accanto a suo marito Ercole vediamo la situazione a Napoli a Napoli il Nicodemo per tutti Nicodemo Pontano poi per me e per un paio di persone che mi hanno preceduto negli studi contemporanei il Nicodemo come vedete oggi lo si ammira come a destra ve lo ricordate? cioè in maniera efficace ma nulla di eguagliabile a quello che succede a sinistra nella veduta opposta perché la veduta opposta parla molto di più è più ricca di dettagli c'è la scarsella ci sta questo bellissimo cascare della manica la gestualità ha tutta un'altra pregnanza e quindi come capite il Nicodemo deve essere proprio rovesciato di 180 gradi è messo quindi dalla nostra destra alla nostra sinistra la stessa cosa il Giuseppe d'Arimatea che in verità da qui come lo vediamo oggi a sinistra mostra la sua scarsella ma c'è una deformazione eccessiva del braccio destro che è fatta naturalmente per perdersi nello scorcio con la veduta dall'altra parte il Cristo va bene che mi rifiuto di presentare alla mantegnesca e poi vi spiego perché risulta oggi alla mantegnesca il Cristo qui interrogo il pubblico è più ricco di dettagli nella versione in alto o nella versione in basso sento dire soprattutto in basso e questo mi fa piacere perché appunto questa è la ricostruzione che io propongo e per non essere così frantumati come dire per non isolare le immagini come tristemente sono oggi ecco una restituzione che ho chiesto a mia leva Michela Tarallo di fare sulla base delle mie indicazioni questo è come io intendo il gruppo di Monti Oliveto nel suo assetto originario cosa significa questo che il gruppo collocato in questa cappella con un arco di accesso dal presbiterio costringeva naturalmente a mettere il Cristo in questa posizione perché il Cristo doveva avere i piedi verso l'altar maggiore la cappella era visibile dalla corte attraverso l'arco che poi è stato accecato e il pubblico dei pochi privilegiati che poteva arrivare fino a qui attraverso il corridoio di sinistra vedeva attraverso una finestrella i piedi del Cristo perché qual era diciamo così il pregresso dell'immaginazione che Giuseppe da Rimatea avesse introdotto il corpo di Cristo per il capo come già nelle miniature medio-bizzantine va bene da qua nella cella sepolcrale seguito da Nicodemo che arrivava con i piedi va bene i buoni monaci olivetani che all'altezza del 1685 ormai avevano perso come dire interesse nei confronti di questa cosa per cui distrussero le immagini degli aragonesi rimossero le immagini degli aragonesi e soprattutto inerzialmente portarono il gruppo da qua a qua nello stesso assetto capite bene che rovesciando di 180 gradi la planimetria della cappella ex origi aragona nella cappella Correale presentarono i piedi al terminale cioè alla fronte esattamente come si vedevano da questa parte e quindi in maniera involontariamente pseudomantegnesca ecco questo è come io immagino il gruppo alla morte di Alfonso o meglio alla abdicazione di Alfonso e alla fine del lavoro di Mazzoni questo è come lo immagino venti anni dopo come memoriale degli aragonesi in questa foggia perché Alfonso non si era fatto ritrarre per rispetto naturalmente nei confronti di suo padre nei confronti del suo amatissimo Aio Pontano ma soprattutto perché l'intenzione di Alfonso e qui naturalmente mi dovrei allargare ma non ho il tempo per farlo era di occupare il presbiterio come luogo della propria tomba come trionfo sepolcrale della casa d'Aragona rispetto a cui il sepolcro di Cristo fungeva da elemento di preparazione servizio appoggio avallo suggello e qui vi devo ricordare che alla fine della dinastia aragonese già tre parenti stretti di Alfonso il figlio il nipote il fratello erano stati sepolti nel presbiterio di Montio di Veto e debbo velocissimamente datemi ancora un minuto se è possibile ricordarvi che le grandi chiese secolari conventuali e monastiche fondate a Napoli tra l'inizio della dinastia Angioina fine del 200 e la fine della dinastia aragonese Santa Maria di Montio di Veto tardo 400 erano servite come grandi cimiteri questo va da sé aventi come fuoco culminante nel presbiterio luogo di patronato reggio in cui c'era la grande rappresentazione trionfale attraverso le memorie funerali del potere dinastico e quindi il duomo di Napoli che voi vedete qui nella sua riedificazione Angioina che fece girare la pianta il capocroce di 90 gradi non più verso nord ma verso est in questa situazione con il sacerdote che guardava la luce il popolo dietro di lui che guardava la luce e quindi il prete che dava le spalle al popolo tutto trionfava nella tribuna dove c'erano come sappiamo le tombe degli Angioini che furono naturalmente distrutte quando dopo 150 anni gli Angioini caddero la memoria cominciò ad affievolirsi e a poco a poco guarda caso furono i cardinali arcivescovi di Napoli a occupare la tribuna per i loro scopi funerari la chiesa di Santa Maria Donna Regina orientata verso come dire puntata verso sud quindi con un orientamento tutto sommato canonico aveva il prete che dava gli occhi alla luce assieme al popolo guidava le spalle e al centro della tribuna c'era la tomba di Maria d'Ungheria regina madre di Napoli vedova di Carlo II fatta da Tino di Camaino che poi è stata rimossa da qua e messa qua la tribuna di San Lorenzo Maggiore chiesa perfettamente orientata è stata creata come pantheon della generazione successiva degli Aragonesi praticamente ora semplifico molto ogni generazione regia tra Angioini e Aragonesi aveva la propria chiesa di cui occupava attraverso le memorie funerarie lo spazio presbiteriale salvo poi passare ad un'altra forma di come dire colonizzazione sepolcrale con una nuova costruzione Santa Chiara stessa cosa la tribuna era Cappella Regia con le famose tombe che poi sono andate semidistrutte tragicamente durante la seconda guerra mondiale San Domenico Maggiore stessa cosa in un primo momento i rami cadetti degli Angioini e poi arrivano gli Aragonesi le cui casse e ligne oggi si trovano tutte raccolte nella sagrestia e poi San Giovanni a Carbonara con l'unico presbiterio perfettamente intatto ancora oggi la grande tomba di Ladislao d'Angio Durazzo commissionata da sua sorella Giovanna II che ancora domina vedete lo spazio della tribuna ecco mettendo insieme una serie di testimonianze biografiche cronistiche su Alfonso si capisce che il grande scopo di Alfonso era di fare un presbiterio funerario aragonese in cui la sua effigie avrebbe potuto trionfare non meno di quella di Ladislao varie generazioni prima nella tribuna di San Giovanni a Carbonara per questo motivo non ci fu bisogno del suo ritratto e lui poté cedere come dire con facile generosità che comunque gli si riconosce da tutte le fonti al padre e al pontano il privilegio di questi criptoritratti che hanno fatto perdere memoria di sé attraverso questa stratificazione convulsa dinamica e congestionata che ho cercato perdonate forse un po' troppo frettolosamente però anche rubandovi tempo di rimettere in ordine grazie non so se l'ora e il caldo vi permettono ancora di fare qualche domanda io sono nonostante tutto parato alle vostre esigenze allora buonasera io volevo chiedere questo al professore se nella scultura di Guido Mazzoni si possono rilevare riscontrare quegli elementi stilistici che troveremo più avanti quasi cento anni dopo in Caravaggio sì e no no nel senso che non vedo un nesso storicamente accertabile documentabile non vedo nessun rapporto penso che Caravaggio ignorasse serenamente Mazzoni tutto proiettato come era assieme ai suoi contemporanei verso altre mete verso un futuro che come dire se conviveva col passato lo faceva un po' più che altro per negligenza e come dire sì nel segno dell'indifferenza il punto è che stiamo parlando comunque di due giganteschi rappresentanti di un'illustre tradizione figurativa padana mi consenta questa semplificazione che come hanno sempre rimarcato i grandi storici del nostro passato artistico da non so ad Adolfo Venturi a Pietro Toesca a Roberto Longhi ha avuto tra le più belle frecce al proprio arco questa vocazione questa tendenza che è stata chiamata del naturalismo del realismo la etichetti come vuole lei va bene ecco una presa sulla realtà sulla vita di tutti i giorni in tutte le sue manifestazioni alte o basse con un occhio e una come dire è un senso di profondità che altre tradizioni regionali italiane non hanno avuto a cominciare da quella tosco-romana ecco in questo senso quindi i due si danno la mano ma come se la danno Mazzoni e Moroni per fare anche la rima non so come dire ma ecco non non nel senso di una tramitazione consapevole va bene anche in diretta Caravaggio non avrà studiato tutti i grandi pittori lombardi fra 4 e 5 eppure noi sentiamo che ne è l'erede come dire consapevole perché comunque direttamente o indirettamente si è rifatto a loro qui come dire tenderei a tendere ad escludere però è una mia idea insomma una mia opinione Buonasera volevo fare un riferimento alla mappa che lei ha mostrato inizialmente dell'Italia diciamo dei compianti in terracotta che era incredibilmente vuota nella sezione sub-padana diciamo e volevo sapere se venendo conoscendo il gruppo di Colle Valdelsa che è un compianto sempre in terracotta realizzato da Zaccaria Zacchi volevo sapere se a suo avviso ci sono documentati dei rapporti con questo compianto del Mazzoni o nello specifico anche con altri di Aria Padana perché è veramente un caso molto significativo la Toscana è molto povera di questo eppure quello è un gruppo veramente impressionante per diversità Allora innanzitutto Zaccaria Zacchi come sa è un importante scultore itinerante che aveva avuto i suoi momenti bolognesi e padani quindi come dire la distanza si elide alla luce dei viaggi poi c'è da dire questo naturalmente su un argomento del genere si potrebbe tenere un corso di 80 ore questa mappa si può decuplicare se noi consideriamo per la Toscana per esempio i gruppi di pietà va bene in senso strettissimo con le quattro componenti protagonistiche Maria Cristo partiamo da Cristo Cristo Maria Giovanni e Maddalena pensi a tutti i gruppi robbiani i gruppi maianeschi va bene e infatti come dire fare questi corpora è sempre un po' rischioso perché uno deve spiegare a priori quali sono le inclusioni e le esclusioni che consapevolmente fa per poter gestire la materia che altrimenti gli esploderebbe tra le mani capisce cioè se uno si mette a lavorare sull'iconografia del compianto lato senso praticamente deve centuplicare il corpus perché innanzitutto ci deve mettere le pitture le miniature e poi già soltanto sul fronte della scultura chiamiamola scultura anche se coroplastica non è opera di rilievo fatta per sottrazione di materia ecco che arrivano appunto gli invetriati o le invetriate toscane oppure ripeto le terracotte di Benedetto da Maiano Zacchi è mirabilmente un tradunione fra queste due tradizioni va bene quella diciamo così delle poche figure toscana soprattutto e quella delle tante figure d'altro canto non siamo poi così distanti da San Vivaldo a Montaione che è uno di quei sacri monti che quando si fa la litania dei sacri monti italiani viene trascurato perché perché è troppo a sud cioè troppo più a sud della dorsale appenninica che separa meravigliosamente diciamo così la cresta italiana dei sacri monti più famosi da occorrenze più rare che però non mancano ecco altre domande? bene ci vediamo allora il 12 aprile spero non qua spero 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 in una sala esposta a nord no perché cioè leonardo sì però solo a patto che la temperatura sia diversa perché vi assicuro che non ho mai avuto tanta difficoltà a reggere una lezione e tra l'altro non faranno la conversione non faranno mettere i condizionatori sicuramente a qui c'è scritto però di Binterangelo al Margello questo è la domanda e